Oh, ed eccoci qua, ce l'abbiamo fatta anche per questo difficile mese di marzo con il video sui preferiti del mese. È il 31, è l'ultimo giorno disponibile, lo so, siamo in ritardo, ma ce l'abbiamo fatta, quindi non lamentatevi. Bentornati qui sul mio canale, io sono Rick e ci aspetta un video con consigli su film, serie tv, libri, videogiochi e molto altro. Quindi mettetevi comodi, prima però di cominciare vorrei dire una cosa importante. In questi giorni di cambiamento, un cambiamento che ci spaventa, è fondamentale potersi aggrappare a piccole consuetudini, piccole abitudini, comportamenti, cose che ci danno ordine. Sì, perché il cambiamento fuori di noi, quando è così grande, quando ci toglie le coordinate, è molto facile che ci trasformi in qualcosa che non abbiamo deciso di diventare, quindi qualcosa che non ci piace. E per evitare che quella trasformazione sia così deleteria, bisogna sapersi concentrare su alcune piccole cose, abitudini, aggrapparsi, conservarsi, avere cura di quelle cose per avere cura di sé. Ad esempio, per me è salvifico Daily Cogito. Sapere che ogni giorno devo concentrarmi per scrivere, registrare, preparare, pubblicare una puntata, è davvero qualcosa che mi dà ordine a tutto il resto, che mi dà concentrazione, che mi focalizza, che mi dà obiettivi. Fate lo stesso anche voi. Spero ovviamente che questo video, così abitudinario, così solito, così uguale agli altri, sia di aiuto, così come lo sono i Daily Cogito, le dirette su Twitch, che, lo ricordo, cominciano oggi alle 18, da lunedì al venerdì, siateci, mi raccomando, il link è sotto in descrizione, e che vi aiutino ad affrontare questo casino, questo cambiamento, dandovi un po' di ordine. Questa è la mia speranza, e se io riesco a trovare ordine facendo queste cose, magari voi potete trarre dell'ordine guardandole e ascoltandole. Peraltro su Twitch vi ricordo che ci vedremo in live, a volte sarò solo io, a volte solo Ari, a volte entrambi, grazie a tutti quelli che ieri sono stati all'inaugurazione, è stata divertentissima, e anche lì vi gerai il motto che non è tutto noia ciò che pensa. Vorrei che vedeste questa meravigliosa tazza, il logo è prodotto da Ari, e potete ordinare questo logo stampandolo su tazze, magliette, spille. Ci sono anche le spille, insomma, tutta roba bella, link in descrizione, mi raccomando. Direi che ci siamo, possiamo cominciare con i preferiti, ovviamente partendo sempre dai libri. Il primo libro che voglio introdurvi, ve lo introduco con una lettura. Solzhenitsyn, il loro comune rimorso, lo ha scritto. Uno degli aspetti più deleteri del sistema sovietico era che, a meno di non diventare martiri, non si poteva essere onesti. Non si poteva avere una buona opinione di se stessi. Gli intellettuali di regime, se non erano completamente abbruttiti o del tutto cinici, si vergognavano di quel che facevano, si vergognavano di quello che erano. Si vergognavano di scrivere sulla Pravda lunghi articoli di denuncia contro Pasternak nel 1957, Brodsky nel 64, Sinavsky e Daniel nel 66, Solzhenitsyn nel 69, mentre in cuor loro li invidiavano. Sapevano che erano quelli, gli autentici eroi della loro epoca, i grandi scrittori russi a cui il popolo chiedeva, come un tempo a Tolstoi, che cos'è bene, che cos'è male, come dobbiamo vivere. I più infingardi dicevano, sospirando, che se fosse di peso soltanto da loro, avrebbero seguito quegli esempi sublimi, ma avevano una famiglia, figli che avevano intrapreso lunghi studi, tutte le validissime ragioni che ognuno di noi ha per diventare un collaboratore anziché un dissidente. Molti si rifugiavano nell'alcol, alcuni, come Fadiev, si suicidavano. I più furbi, che erano anche i più giovani, imparavano a giocare su due tavoli, pratica ormai possibile perché al potere facevano comodo questi semidissidenti moderati ed esportabili che Aragon si era specializzato nell'accogliere da noi a braccia aperte. Evgeniev Tushenko, che incontreremo più avanti, si prestava ottimamente alla bisogna. Questo libro è un gioiello, è un libro che io adoro, che sto rileggendo, perché questo è un mese di riletture soprattutto, e che si intitola, vi mostro la copertina, ce l'ho in formato ebook, Limonov del buon Emmanuel Carrère. Sì, lo so, vi cito molto spesso Carrère perché è uno dei miei autori preferiti, e Limonov lo sto rileggendo perché Edward Limonov, avventuriero, russo, anarcoide, comunista, dissidente, semiterrorista, questo è il campanello che ha appena distrutto il mio discorso. A quanto pare è arrivato un pacco, quindi fra poco dovrò spegnere di nuovo perché Ari ritornerà e le darò una mano, però nel frattempo andiamo avanti, Limonov di Carrère, dicevo. Questo personaggio assurdo, di cui vi consiglio di leggere la biografia, viene qui romanzato in modo fenomenale da Carrère, non solo perché la sua vita è stata straordinaria, ma perché le considerazioni che Carrère fa sulla società che circonda Limonov sono talmente vivide, talmente attuali da spaventarci. È un libro che racconta non Limonov, ma racconta uno spaccato sociale molto molto ampio, certo, uno spaccato diverso dal nostro, perché si parla comunque di un regime totalitario, si parla di una società estremamente sorvegliata, ipocrita, problematica, oltre quello che per noi è pensabile e immaginabile, e speriamo resterà così per molto tempo, però con alcuni aspetti veramente veramente intimi, come la vigliaccheria degli uomini, che non è soltanto parte del totalitarismo, ma anche parte delle società democratiche come quelle in cui viviamo noi, il ruolo del dissidente che sta a metà strada, quindi quello anche del radical chic, un po' dissidente ma un po' connivente, insomma, è un libro totale che vi consiglio di leggere, anche perché, come spesso mi è capitato di dire, Carrera ha quella facoltà straordinaria di creare biografie, romanzandole, ma non per falsificare la vita di coloro che vengono raccontati, ma per arricchirla e farla sentire molto più vicina a noi. Testo fenomenale, io sotto vi metto il link anche degli ebook, visto che in questo periodo è difficile ricevere libri anche da Amazon, con l'ebook ci mettete un attimo, quindi dateci un'occhiata. Il secondo libro che consiglio è sempre un libro in ebook, che però non ho soltanto letto ma ho anche ascoltato, ed è il libro di Francesco Costa, questa è l'America. È un libro bellissimo di cui ho discusso proprio con Francesco in un'intervista su Daily Cogito e qui sul canale, vi metto il link qui fra le schede sotto in descrizione, ed è veramente, veramente molto bello. Ecco qua la copertina, e io non l'ho soltanto letto in ebook, ma l'ho anche ascoltato grazie a Storytel. Vi ricordo che Storytel è partner di Daily Cogito ed è sponsor di questo video. Storytel è un sito con un enorme catalogo di audiolibri e podcast originali, più di 100.000, con titoli meravigliosi, fra cui quelli di Fitzgerald, di Roth, di Calvino e tanti altri. C'è un intero catalogo anche consigliato da me sul sito, e se userete il link in descrizione, questo che vedete scritto qui, potrete avere accesso per 30 giorni gratuitamente al catalogo, in cui troverete anche l'audiolibro proprio Questa è l'America di Francesco Costa. Ovviamente del libro di Francesco ho già discusso approfonditamente nel Daily Cogito, intervistando proprio lui, quindi vi lascio il link in descrizione, recuperatelo se vi interessa. È una bellissima raccolta di saggi sugli Stati Uniti contemporanei. Bellissima, veramente. Passiamo quindi al prossimo libro, che è Daniel Dennett, Strumenti per Pensare. Questo è l'ultimo libro, quello che mi mancava di Dennett. È un libro che ho sempre schivato, perché avevo timore che fosse la ripetizione di cose già lette in Sweet Dreams, in Coscienza che cosa è, nell'idea pericolosa di Darwin, tanti libri che ho amato molto. E invece mi sbagliavo. Mi sbagliavo perché questo è un libro veramente brillante, geniale, sul reverse engineering della coscienza. Cioè, quello che Dennett cerca di fare, soprattutto analizzando il linguaggio e il modo di argomentare e di esprimere idee, è cercare di fare un atto di reverse engineering, cioè ricostruire la catena causale che da ciò che esprimiamo porta al motivo reale, quindi alla natura della parte cosciente di noi che si manifesta in quell'espressione. e da veramente degli strumenti argomentativi. Per esempio, è un bellissimo testo per capire alcune fallacce logiche, per capire come si esprime una determinata idea e argomentazione in modo efficace, come funziona la relazione fra interlocutori. È brillante. Non è un testo sull'argomentazione, è proprio per questo un testo che può essere usato per l'argomentazione. Magari l'avessi letto molto tempo fa, quando è uscito, perché veramente, veramente lo trovo brillante. Fra i libri di Dennett, direi che è forse quello più interessante da cui cominciare. Quindi, se non avete mai letto nulla di Dennett, vi consiglio questo. Prima avrei consigliato Sweet Dreams, che è bellissimo, sicuramente non coscienza che cosa è, anche perché mi sembra sia abbastanza introvabile in questo periodo, oppure L'idea pericolosa di Darwin, o alcuni altri. Beh, ecco, ho cambiato idea. Se volete cominciare a leggere Dennett, cominciate da questo, che è divertente, è brillante, e vale la pena veramente di venire affrontato. L'ultimo libro di oggi è Note da Hiroshima, di Kenzaburo Oe, un testo che è stato importantissimo nella mia formazione, perché in questo libro il giornalista, vincitore del Pulitzer, Kenzaburo Oe, che durante la sua carriera ha fatto molti viaggi a Hiroshima, e Nagasaki, seguendo le manifestazioni antinucleariste contro la bomba atomica, per la non proliferazione e via dicendo, raccoglie tante sue idee, e presenta quella che è, secondo me, la più importante. Il concetto di Hibakusha. Che cos'è lo Hibakusha? È il sopravvissuto alla bomba atomica. È la persona che è sopravvissuta a quella tragedia immane, che è stato lo sgancio delle due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. È letteralmente il sopravvissuto. E l'idea più potente di questo libro è molto attuale per quello che stiamo vivendo. Lo Hibakusha, nella stragrande maggioranza dei casi, non voleva essere definito Hibakusha. Cioè, una persona che fosse sopravvissuta alla bomba atomica, non voleva che la sua vita venisse definita da quella tragedia. Non voleva essere vista come la vittima di qualcosa che aveva subito passivamente, su cui non aveva nessun potere, perché lo Hibakusha ha questa caratteristica. Nonostante ciò che aveva vissuto, desiderava forgiare la sua vita a proprie immagini e somiglianza, come lui voleva, non come gli altri avevano imposto. E questa è un'idea molto importante, perché si ricollega a ciò che dicevo all'inizio del video. È fondamentale fare qualcosa per non lasciarsi trasportare, trasformare da un cambiamento di cui non siamo i fautori e gli autori. È fondamentale non essere soltanto vittime. Lo Hibakusha è vittima, ma è anche vittima. Non è soltanto vittima di quell'avvenimento che poi è stato devastante. Ci sono racconti struggenti, letteralmente strappa non cuore o lacrime, ma strappa budella letteralmente, di persone che hanno perso l'intera famiglia da quegli eventi e che erano state vittime loro stesse della bomba atomica, del fallout, di tutto quello che ne è conseguito, e che per tutta la vita hanno lottato per non farsi definire da quell'avvenimento. Che se ci pensate è una forza d'animo incredibile. Incredibile molto spesso noi, che invece vogliamo ammantarci delle piccole tragedie che ci toccano, non capiremmo. Perché in realtà noi, come dice Daniele Giglioli nel suo bellissimo Critica della vittima, tendiamo a nutrire il vittimismo e anche se le tragedie, i traumi che ci colpiscono sono molto meno gravi rispetto a quella di Hiroshima e Nagasaki, noi volentieri ci facciamo definire dagli altri sulla base di quella tragedia. Lo Hibakusha invece ci insegna che no, no, tu non puoi essere definito soltanto sulla base di quello che ti è successo. E credo sia un insegnamento straordinario. Quindi questi sono i libri di questi preferiti. Adesso passiamo ai film. Ora i film in realtà sono quattro film che ho visto tutti su Disney+. Sì, ci siamo abbonati a Disney+, e devo dire che sto amando Disney+. Perché il primo film che abbiamo visto è Basil, l'investiga topo. Ragazzi, la forza della nostalgia di fronte a quel film è stata... io ero... sono stato commosso per tutto il film, anche nei momenti più divertenti, perché Basil è stato il mio film preferito durante l'infanzia, era il mio film preferito insieme a Red e Toby, nemici e amici, ma sto aspettando per vedere quello perché il mio cuore potrebbe non reggere, e rivedere Basil è stato incredibile, incredibile. Non solo perché pur avendolo dimenticato lo ricordavo, cioè ci sono due genere di ricordo, c'è il ricordo quello razionale, il ricordo in cui tu proprio hai capacità di riportare alla memoria immagini, eventi, parole, e quello invece non c'era perché l'ultima volta che ho visto Basil avrò avuto otto, nove anni probabilmente, quindi non ricordavo quasi nulla, se non l'immagine dei personaggi, Rattigan, però c'è un secondo tipo di memoria, ed è la memoria più inconscia e irrazionale, non quella fatta di immagini, ma fatta per esempio di suoni, fatta di crasi, fra altri ricordi, cioè io vedendo Basil mi sono ricordato l'atmosfera dello stare sul divano con i miei genitori a guardare quel film, mi sono ricordato alcuni elementi che stanno dentro di me e che in qualche modo Basil ha scavato e ha riportato alla luce, ma sono elementi che fanno parte di me in modo intimo e che sono stati fatti emergere con questa sorta di palla della memoria, ed è stato meraviglioso. Credo che Disney Plus avrà una grande fortuna, almeno nei primi mesi, perché ti permette di riproporre quelle cose lì, quelle cose che giocano sulla nostalgia, e la nostalgia ha questa forza incredibile di mettere insieme questi due tipi di memoria, quella razionale a volte, ma soprattutto quella inconscia, quella che è più intima, che ti forma, ma di cui sei scarsamente consapevole, però ce l'hai, la vedono tutti in forme diverse, incredibile, incredibile, bellissimo, guardatelo se non l'avete mai visto, poi il film è proprio bello, è invecchiato molto bene secondo me, quindi guardatelo. Sempre su Disney Plus ci siamo recuperati, tutta la trilogia di Toy Story, anche lì il primo e il secondo io le avevo visti, il secondo lo ricordavo poco, il primo molto bene, sono bellissimi, e poi il terzo non l'avevo mai visto, ragazzi il terzo è qualcosa di incredibile, io a suo tempo ho letto critiche al Toy Story 3, e non le capisco, è talmente perfetto, nella chiusura del cerchio, che poi so che c'è il quarto, lo vedremo, però per ora, cioè il terzo è proprio perfetto, io non so a questo punto perché sia stato criticato, ricordo alcune critiche, ma non le condivido, ricordo che alcuni hanno detto che i personaggi erano troppo diversi, fuori personaggio, non mi è sembrato, io l'ho proprio amato, l'ho proprio amato, e ne parlerò sicuramente in un Daily Cogito, perché le cose che emergono da Toy Story, sono veramente, veramente fantastiche. Quindi Disney Plus per ora, assolutamente approvato, oltre a questi, stiamo anche guardando The Mandalorian, siamo arrivati alla terza puntata, adesso cercheremo di vedere anche le altre, finora mi piace, devo dire che è una narrazione interessante, e alla fine della visione vi faremo sapere cosa ne abbiamo pensato, probabilmente ne parleremo in modo approfondito su Twitch. Altre due serie vi consiglio a questo punto, una che mi avete consigliato voi tantissimo, ed è The Good Place. Ora, The Good Place si trova su Netflix, e io avevo visto la prima stagione, tipo l'anno scorso, mi era piacciucchiata, ma non in modo così eclatante, carino il colpo di scena finale, però un po' telefonato, lo devo dire, così l'ho abbandonata, e dopo mi avete scritto, dicendo, mi ha oric, devi guardare la seconda, è bellissima, adesso è uscita anche la terza, così in questi giorni c'è un po' di tempo a disposizione, quindi la stiamo guardando, devo dire che The Good Place è una, è una bella serie tv, una bella serie tv, la seconda stagione ci sta piacendo proprio tanto, divertente, intelligente, è solo un peccato che ogni tanto, quando si addentrano in dilemmi filosofici, abbastanza pregnanti, poi sviano all'ultimo, per esempio c'è questa puntata, in cui i protagonisti cercano di parlare di etica, del dilemma del binario, ok, quindi tu sei su un treno, c'è un binario che si biforca, da un lato hai cinque operai, dall'altro ne hai uno, dove tiri la leva se non sai nulla di queste persone, quindi, e la storia racconta il fatto che questo esperimento mentale non ha senso, perché in realtà il contenuto etico c'è soltanto laddove tu sei veramente coinvolto in prima persona, e uno dei personaggi si trova nella situazione, e in quella situazione si trova a capire che tutte le teorizzazioni valgono nulla, finché non ti trovi ad impattare con la situazione reale, ne ho parlato in un Daily Cogito quando ho discusso del chi curare prima, nell'ambito della situazione che stiamo vivendo, recuperatelo, e però poi quando arriva nel momento pregnante, tutto viene un po' buttato in vacca, con qualche risata che ci sta, però è un peccato, perché potevano andare all the way down e approfondire quella situazione, però consigliata, The Good Place mi piace, bella, guardatela, è anche molto divertente far ridere, infine un'altra serie tv, stavolta su Prime Video, che vi consiglio, è Jack Ryan, Tom Clancy's Jack Ryan, ora io non amo particolarmente quei thriller, spy story di quel genere, col terrorismo, con il cattivo di turno, con la spia, che in realtà è un analista del FBI, anzi della CIA, che si trova in una situazione di, diciamo così, pratica bellica, in modo un po' casuale, non mi piacciono particolarmente, però Jack Ryan, che abbiamo cominciato a guardare di nuovo, perché c'è molto tempo a disposizione in questi giorni, devo dire che mi sta sorprendendo, perché è ben scritta, perché i personaggi sono molto approfonditi, e ve la consiglio, ve la consiglio, perché la prima stagione è proprio bella, cioè la prima stagione è, ha il difetto del testosterone, ma vabbè, quello fa parte della narrazione, quel genere di narrazione, però al netto di quello, al netto delle esplosioni, al netto degli inseguimenti, al netto delle irrealità, un po' alla James Bond, che però mi piace molto, un giorno vi parlerò della mia passione per James Bond, 007, al netto di tutto questo, c'è una buona scrittura, è una serie, secondo me, che vale la pena di essere vista, anche ben interpretata, quindi, quindi approvata, mi è piaciuta, mi è piaciuta, e di solito, quando Amazon Prime fa tanta pubblicità, questa roba, poi non vale granché, questa è un'eccezione, guardatela, perché ne vale la pena, ultimo consiglio, Animal Crossing, ne parlerò nel Daily Cogito di domani, vi farò dei parallelismi fra Animal Crossing, e cose un po' strane, come 1984, o John Maynard Keynes, però al netto di questi parallelismi, che andrò a trattare domani in Daily Cogito, vi consiglio Animal Crossing, soprattutto perché, è il gioco perfetto in questo periodo, è il gioco perfetto perché, oltre ad essere molto rilassante, oltre ad essere letteralmente giocoso, sotto moltissimi punti di vista, è, come dire, un gioco fatto di piccole abitudini, è un gioco che ti dà ordine, io ci gioco, mi rilasso, e mi sento un po' più focalizzato, dopo quando torno alla vita normale, certo non bisogna esagerare, non bisogna farsi trasportare, giocarci per 16 ore, però, se sai darti misura, è un gioco che, ti rilassa nel modo giusto, per questo periodo, mi verrebbe da dire, che è un gioco un po' stoico, un po' stoico, perché è un gioco che ti dice, concentrati su piccole task, piccoli obiettivi, piccoli comportamenti, per arrivare a fare, delle cose molto semplici, molto piccole, è un gioco procedurale, come direbbe il buon Sinergo, e lo consiglio, per chiunque sia appassionato, di Nintendo Switch, Ari non lo conosceva, è totalmente immersa, totalmente drogata, di Daily Cogito, anche, ma di Animal Crossing, quindi, veramente, veramente consigliato, mi sta, mi sta piacendo, poi io, ho avuto Animal Crossing, fin dalla più tenera età, quindi, è qualcosa a cui sono appassionato, e merita, se avete la Nintendo Switch, prendetelo, perché, perché è veramente bellissimo, bene, questi sono i preferiti, un po' troppo lungo, forse, ma, forse, ha fatto anche del bene, a tutti voi, spero che sia così, quindi, io vi ringrazio, per l'ascolto, come sempre, vi ricordo, che fra qualche ora, alle 18, ci vediamo anche su Twitch, e poi, si parte con la programmazione, quindi, alle 7 del mattino, Daily Cogito, ogni tanto, un video, che esce qui sul canale, uno, due volte a settimana, e poi, alle 18, dal lunedì al venerdì, su Twitch, spero di vedervi numerosi, e spero che ci divertiremo insieme, e che supereremo, questo momento difficile, con le unghie, con i denti, e dandoci manforte, gli uni con gli altri, quindi, buon pomeriggio, e non dimenticate, che non è tutto noia, ciò che pensa.